in diretta dal Kennedy Stadium di Napoli si affrontano per la prima giornata degli europei torneo targato S-Cup Germania formazioni schierate lì al centro del campo squadre che ora passano a darsi il 5 ora le due formazioni hanno fischiato il nostro in non lo ricorderò sorteggiano Pallecampi due capitani già sorteggiato Pallecampi ossia da inizio al match un saluto prima giornata Romania Germania già risultato di 1 a 0 per la Romania che ora scusate per la Germania che ora prende il palo il pallone che esce fuori i brividi inizia bene la formazione in maglia blu 1 a 0 per l'oro dopo la papera del portiere ora possiamo seguire tutta la prima grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Secondo tempo tra Germania e Romania, il risultato di 4 a 1 per la formazione della Germania. Ora possiamo seguire tutto il secondo tempo per questa prima giornata europei SK. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.